direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza mastai in roma questa è l'estrazione di super enalotto buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del super enalotto oggi martedì 24 settembre il jackpot ha raggiunto la cifra di 79 milioni 477 486 euro le 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo ora il via all'estrazione del concorso numero 152 inizia il mescolamento automatico delle sfere stiamo per scoprire i sei numeri vincenti più il numero jolly tenete strette le vostre ricevute è in arrivo il primo numero estratto è il numero 25 siamo al secondo numero con super enalotto si inizia già a vincere il secondo numero estratto è il numero 90 il terzo numero sta arrivando il terzo numero estratto è il numero 27 pronti per il quarto numero il quarto numero estratto è il numero 2 e adesso scopriamo il quinto numero che apre le porte alle grandi vincite il quinto numero estratto è il numero 50 è il momento di incrociare le dita siamo per completare la sestina vincente il sesto numero estratto è il numero 88 dopo i sei numeri che assegnano il jackpot passiamo ora all'estrazione del numero jolly vi ricordo che indovinando questo numero insieme a cinque numeri della sestina vincente potrete realizzare la grande vista del 5 più 1 il numero jolly di questa sera è il numero 19 controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione ed il numero jolly 25 90 27 2 50 88 numero jolly 19 ed ora passiamo al numero superstar superstar è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata la sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le spere da 1 a 90 procediamo con l'ultima estrazione di questa sera vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre superstar moltiplica le vincite super enalotto fino a 100 volte e premia anche lo 0 e l'1 le sfere stanno ruotando nell'urna pronti ed ecco il numero superstar è il numero 86 ricontrolliamo insieme tutti i numeri estratti del concorso numero 152 con la sestina vincente in ordine crescente 2 25 27 50 88 90 numero jolly 19 numero superstar 86 e l'estrazione di oggi martedì 24 settembre termina qui diamo il tempo di verificare tutte le giocate e ci rivediamo tra poco per scoprire se il jackpot di oltre 69 milioni 400 mila euro è stato centrato da qualche fortunato giocatore ben ritrovati poco fa abbiamo estratto i numeri vincenti del concorso numero 152 siete pronti a scoprire le vincite di questa sera questa estrazione del super enalotto assegna 432 mila 867 vincite vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 69 milioni 400 mila euro sarà stato centrato il 6 questa sera il 6 di super enalotto non è stato realizzato ed il jackpot cresce ancora per arrivare a 80 milioni 300 mila euro vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote nessun 6 e nessun 5 più 1 i 5 sono 5 e vincono 35 388 euro ciascuno i 4 sono 829 e vincono 217 euro ciascuno i 3 sono 27.532 e vincono 19 euro ciascuno i 2 sono 378.604 e vincono 5 euro ciascuno ed in questo concorso sono state assegnate ben 228.276 vincite immediate winbox scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar nessun 5 stella l'unico 4 stella si aggiudica 21.746 euro i 3 stella sono 81 e vincono 1970 euro ciascuno 100 euro vanno i 1385 due stella 10 euro vanno i 7.856 1 stella e 5 euro vanno ai 16.574 0 stella inoltre 101 vincite da 50 euro ciascuna e 15.187 vincite da 3 euro ciascuna sono assegnate alle combinazioni non vincenti vi ricordiamo che è possibile verificare l'esito delle proprie giocate in modo facile e veloce anche con l'app superenalotto verifica vincite l'app è disponibile per tutti gli smartphone per maggiori informazioni consultate il sito superenalotto.it io vi ringrazio per essere stati con noi superenalotto vi dà appuntamento a giovedì 26 settembre giocheremo per un gioco di 80 milioni 300 mila euro arrivederci